Il signore che sta proprio in faccia con le pietre, ha detto, ma porta a casa. Miracolo di Dio, non c'era nessuno fuori. Già erano cadute delle pietre a stravoglio? Sì, è perciò. La prima volta avevano caduto le pietre delle pietre, poi ci messero una barra, ma io sono una comarata così, e ora che io ho tutto morto, ho completo. Tanta paura chiaramente. Certo, io veramente, era che dormevo, mi conto. Se lo avevano queste pietre d'occhio, da bene c'è questa merita, da bene c'è questa caduta, e ora aveva problemi di venere carne mia, amici, che andava a fuori del inferno. Amici, vi credo, un po' passare, se scanta. Grazie. 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 Grazie.